Dieci anni di attività, un traguardo importante. Come festeggerete? Quali sono le iniziative in programma? Percorreremo insieme un po' gli anni trascorsi, quello che siamo stati, quello che siamo diventati in questi anni. Ci saranno i nostri registi, i nostri insegnanti che si presenteranno e presenteranno quello che faremo per il prossimo anno. I bambini in modo particolare potranno provare i laboratori, i nostri laboratori di teatro, musicali e poi concludiamo il pomeriggio con un aperitivo per tutti. Allora Radici, sulla scena di che progetto si tratta e che cos'è il dialetto d'autore? Rispondo con una domanda. Può il dialetto parlare al presente e non avere un'accezione necessariamente nostalgica legata ai ricordi? È ovvio che tutti noi siamo fatti anche dei nostri ricordi, però la sfida che noi raccogliamo con questo progetto è quella di far parlare il dialetto nel contemporaneo. Si può portare sulla scena, si possono portare dei testi d'autore nei quali non si replica lo schema abbastanza stereotipato della commedia, la quale tutti noi guardiamo con molta ammirazione perché le commedie dialettali hanno un loro filone specifico così teatrale, anche di pubblico. Noi nel nostro caso invece lavoriamo su testi d'autore nei quali il pubblico non sa esattamente cosa accadrà perché la grandezza del teatro d'autore è proprio questa, cioè poter toccare diverse corde, non solo la battuta comica, non solo il ricordo, il dialetto non è solo un fiasco di vino su una tavola con una tovaglia a scacchi bianchi e rossi, per fare un esempio, non è solo una rete di un pescatore, non è solo campagna o una foto in bianco e nero, il dialetto è tanto di più e la grande poesia in dialetto o i grandi monologhi o dialoghi di autori possono essere collocati al di fuori dello spazio del tempo e raccontare anche il presente.